ciao a tutti sono qua per il mio secondo video che faccio in prima persona diciamo che ci ho preso un po di gusto ecco volevo innanzitutto ringraziarvi per tutti quelli che sono andati ad ascoltare l'album o qualche canzone dell'album mi hanno scritto e veramente vi ringrazio tutti quanti e perciò oggi vi voglio parlare ancora dell'album ma vi voglio parlare di una delle canzoni dell'album che a mio avviso sono una delle più belle diciamo prima oggi ve la voglio voglio parlare di questa canzone ve ne voglio suonare anche una parte di questa canzone e ve la voglio cantare in diretta così e con la mia chitarra però vi ricordo se vi va iscrivetevi al canale così ogni tanto potete venire ad ascoltare questa voce umile e semplice che ho comunque vi parlo della canzone un miracolo sei non l'ho scritta che era il 2012 se non mi sbaglio l'ho scritta come faccio sempre con le canzoni che scrivo perché le canzoni o li scrivo perché mi toccano a me direttamente oppure descrivo emozioni che leggo in altre persone che vedono altre persone infatti un miracolo sei sta scritta per ho descritto le emozioni che ho visto in altre persone vale a dire vi spiego la mia dattrice di lavoro all'epoca stava per diventare nonna e quando gli ho chiesto il nome che avrebbero dato alla bambina sapevano che era una bambina disse che era bianca gli avrebbero messo nome bianca perciò mi sono immaginato questo papà e questa mamma che mi stava per nascere loro figlia e che avevano messo gli avrebbero messo nome bianca ed è nata questa canzone ascoltate e rimango ancora incantato da lei dai miracoli che ogni volta sa fare quando nasce una vita che apre i suoi occhi a questo mondo e i colori che ha bianca come la neve che cade e il rumore non fa pulita e leggera freschezza darà bianca come le nuvole sparsa è quella in quel cielo di blu e ma vera mi dà e poi continua d'altra parte andate ad ascoltarvela se vi va vi lascio il link in descrizione così potete ascoltarla direttamente la potete ascoltare su spotify su qualsiasi digital store scrivete la voce dell'artista è un miracolo 6 riuscirà oppure vi lascio il link qui in descrizione che potete andare vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima